Io ho ucciso Hai appena commesso uno dei reati più gravi La vita è sacra Intanto la vita non è affatto sacra Lei lo sa cosa hanno fatto nella mia vita Sei orgoglioso e non conosci il significato del pentimento Tu credi in Dio? No E allora che sei venuto a fare qua? Cosa vuoi? Pace E lei è qui per questo no? La pace bisogna guadagnarsela Con la preghiera e con la fede Nel segno della croce c'è un tuo La fronte è il padre Il cuore è figo A sinistra c'è lo spirito santo Ma qua cosa c'è? Cos'è il quarto? Il quarto è il diavolo Tu stai bestemmiano Valtene via da qua Valtene E non tornare mai più Nel segno della croce c'è bene c'è male Vai via Gari Io pregono per te E per la tua Anna Valtene via Gari 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 Io ho assicurazione all'aria, a te che ti pare come non mangio il pozzo io. Allora la prossima volta lo poto fare, così mi fai vedere come lo mangio. Quello che sta per arrivare a me è la mia, a me è la mia. Per arrivare non è una demoressa, è un uraga. Scadenerò l'inferno e stavolta non si salverà nessuno. Ho detto tutto e tutti devono essere. E poi se ne vai, a cucarola. Ha finito un paramicchia. Grazie a tutti. Vedi amore mio, quella è la vandolina di Messina. Ha fatto anche tanti miracoli un saluto. Chi lo sa che non ne farà qualche altro anche per noi. Sì, è molto bella e non ce l'ho mai stata. Dobbiamo indirci più spesso. E ti ci porterò più spesso il tuo amore mio. Grazie a tutti. 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 Io non ho fatto nulla animale. Ho cercato a registrare le cose per tutti. No! no 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 Papa 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 no Papa Papa no Papa No 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 quello già detto non permetterò né a voi e né a nessun altro di far entrare quello schifo nel mio quartiere la mia gente mi rispetta e crede in me quindi accetterò qualsiasi tipo di affare ma la droga no pronta buonasera donna Rosa e Luigi Cimarosa ancora non si vuole piegare non si convince a mettersi dalla parte nostra ormai Don Luigi è un uomo solo senza mezzi senza appoggio di tutte le altre famiglie anche Don Nicola Mancurso e Fernando Spadaro non sono d'accordo completamente come si sta muovendo non capisce che l'alleanza sfrutta ottimi risultati per tutti cosa si fa allora? te lo faremo capire in un altro modo sua figlia Cristina agiremo su di lei quando ci sono i figli di mezzo una soluzione si trova sempre puoi dirigere tu la cosa ti affiancherò qualcuno dei miei uomini fidati per lei stai carta bianca come lei comanda donna Rosani a presto il mio amico è appena hanno allestato più di 20 nostri uomini e se ci è stato vice quest'ora ci scassa ancora la minchia Salutiamo gli amici. Sei tu Carmine? Entra, accomoda. Voglio presentarti una persona. Il mio carissimo amico. Santi Ragusa. Un bravo uomo, di lui ti puoi fidare. Piacere. Piacere è mio. Adesso vai Santi. Ti chiamo io quando ho bisogno. Ci sarà un lavoro da fare Carmine. Quando incominciamo? Presto. Tra un paio di giorni. Sono contento Filippo della fiducia che mi dai. Spero di non deluderti. Io mi fido di te Carmine. Lo sai che ti voglio bene come un figlio. E questa sarà un'ottima occasione per dimostrarmi quello che vale. Vorrei chiederti una cosa. Un pensiero che ho da sempre. Dimmi che cosa? Le mie origini. Chi era mio padre? Era uno della famiglia. Purtroppo è stato ucciso quando tu ancora eri troppo piccolo. Ma non pensarci. Sono io e adesso la tua famiglia. Ho domandato a suo marito chi fosse mio padre. Sarei curioso di sapere le mie origini. eri appena un bambino quando mio marito ti portò a casa. Eri sotto shock. Mi disse che ti aveva trovato vicino a una fontana che cercavi di lavarti le mani e la faccia dal sangue. Salvatore si chiamava tuo padre. Non so dirti altro. Grazie donna Concetta. Grazie donna Concetta. Sono contento che sei legato molto anche a te. Povero ragazzo. Ha sofferto molto. Prima suo padre. Poi sua moglie e suo figlio in quell'incidente stradale. Già. Ma questo Carmine che tipo è? È un tipo che sa il fatto suo. E da quanto ha perso i suoi la moglie e il figlio non è più lo stesso. È diventato cattivo. Cattivo. Io lo posso capire. Anche io ho una famiglia. Mia moglie è claramente ammalata e ha bisogno di cure. Sì. Questa è mia figlia Rosaria. Ma che bella. Grazie. Dovremo di non fare minchiata. Tranquillo. Se ti riferisci a me è una settimana che non mi faccio più. Meglio così. Ah a proposito. Quello è mio cugino Tony. È entrato da poco nel giro. E gli dobbiamo fare un po' di grado. Filippo vuole gente esperta. E' intelligente. E lui non mi sembra che abbia questi requisiti. Carmine è mio cugino ok? Ha bisogno di lavorare. Fidati. Vedrai che sarà capace. La responsabilità è mia. Se succede qualcosa devo prendere i provvedimenti. Lo sai vero? Non ti preoccupare. Tranquillo. Bene. Bisogna avvertire donna Rosalba che presto agiremo come stabilito. Vorrei che fossi tu ad avvertirla. Ho sempre pensato che a comandare una famiglia dev'essere un uomo. Comunque se è stato in grado di comandare fino adesso non sarà certo la mia opinione per cambiare la situazione. Bravo. Diventerai un bravo picciotto. Ne sono sicuro. Minchia. Il maneggio. Chi sta è pagione di tutta Sicilia? Ave pure un maneggio. Incredibile. La signora è un tipo che ci piace con un cazzo. Ha 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 ha. Faccio offence un aspetto affare la nostra strontdia dei vicini. Nuate una monti fricktotari maia ro del bambino. Anna Trebekop culture, measuredise", La monti fricktotari è stata scontrata. . salutiamo donna rosalda ciao cardine tutto è pronto come voi avete deciso e le altre famiglie hanno deciso bene adesso puoi andare se ci sono delle novità ci aggiungeremo per telefono ricordati di attivare lo scanner delle chiamate perché ci potrebbero essere delle orecchie indiscrete che signora il papà non ti va giù che cosa di essere comandato in una femma io lavoro per qui si può vivere, no vatti Aspetta un bambino Dici davvero? Davvero Dica mia Scusa, ci può scattare una foto? Certo Certo Cristina Stai attenta a chi incontri per strada Tranquillo, papà Vado sulla storia di ginnastica Cosa vuoi che mi succeda? Ci vediamo a casa Ciao Ci siamo quasi Ma tu hai visto il tuo cugino? Più in tuo culo non ci sarà Vabbè E' la prima volta per noi Scarface Vediamo di non fare minchiate Se no per te la prima e l'ultima Tranquillo Tranquillo Dobbiamo fare presto A quest'ora avranno già segnalato la macchina rubata alla polizia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso hai capito quale è la cosa giusta da fare, vero? Sai come ragiona Donna Rosalba? E cos'è capace di fare anche a una ragazza Se fai quello che diciamo Presto tuo figlio ritornerà a casa Basta solo una firma E una dichiarazione sul foglio di carta che ti faremo avere Ci sentiamo presto Ecco qua Questo l'ho preso Nello stesso negozio Se io dovesse mia figlia Dove avresti tua figlia? Ma tua figlia ha 12 anni Questo è ben ventenni Non è che per caso aspettano qualche cosa? No tranquillo A premio di dare ho detto che è per mia nipote Che compie 18 anni Grazie a tutti Grazie a tutti Non dimenticare mai dimenticare il cappuccio Quando vai da lei Dategli da mangiare una volta sola A pranzo Se fate i capricci Qui c'è della roba La roba Avete capito bene Se non fa quello che diciamo La ragazza d'altro andato Ok? Rosaria L'ho appena accompagnata a scuola Che cosa ha detto il dottore? Quello che già sapevamo Sante Promettimi che quando accadrà Non dovrai farglielo pesare a Rosi Ma che dici? Promettimelo Va bene Te lo prometto In giro si dice che non è stato un incidente La morte di tua moglie e di tuo figlio Ma è stata una cosa voluta Il perché non lo so Sei sicuro? Sì Forse c'è qualcuno che può dirci qualche cosa È una persona che è in stretto contatto con Donna Rosalba Bene In forma di meglio E poi mi fai sa bene Va bene E poi la morte di questo Questa è una persona che è stata una persona che è in stretto contatto con la sua famiglia Ma è stata una persona che è in stretto contatto con la sua famiglia Grazie per la visione Carmine, lei è Bianca Barone, la segretaria affidata di Donna Rosalba Allora? Quello che si dice in giro è vero La morte di tua moglie e di tuo figlio non è stato un incidente Lei pensava che tu fossi nella macchina con loro Lei chi? Donna Rosalba, lei ha organizzato tutto Stai attento a non dire minchiate Non sono minchiate, è vero Sei sicura di quello che stai dicendo? Lavoro da più di dieci anni con lei e so molte cose sul suo conto Perché? Il perché non lo so, ma lei ha paura di te Sta organizzando un altro agguado nei tuoi confronti Da un suo killer fidato, lo stesso che ha ucciso i tuoi cari Vi farò avere tutti i particolari Così tu potrai guardarti le spalle Se quello che mi stai dicendo è vero, verrai ricompensata molto bene È tutto vero, fidati Allora verrai guardata bene E perché hai deciso di voltare le spalle alla tua padrona? Perché è una donna senza anima e senza cuore E poi non voglio essere complice di chi ha sulla coscienza la morte di una donna e di suo figlio Fammi sapere quando avverrà la guada E con i soldi che ti daremo sparisci per sempre Ci vuoi giurare? Ma cosa fai? Brava Sei molto più coraggiosa di quanto pensavo Tutto il contrario di te Spero che i vestiti che ti abbiamo procurato siano di tuo gradimento Non è roba firmata come usi tu Penso che con te ci vogliono le maniere forti Vediamo fino a dove sa resistere Che minchia succede qua? Niente Scarface ha fatto la prima minchiata Che cazzo hai fatto? Va bene Avete vinto voi Filmerò tutto quello che volete Però prima voglio la certezza che mia figlia sia viva e sta bene Certo Stai tranquillo Ci servono delle foto per tuo padre Metti bene in mostra la data di oggi Io non faccio niente Prima voglio parlare con lui A quanto pare la lezione dell'altra volta non ti è bastata allora Ti piacerebbe fartela? Ma che dici? Che hai paura? È la tua prima volta Bene questo è un ottimo momento Io non voglio Forse non hai capito Che tutto quello che succede tra queste mura lo decido io Bene Visto che non fai là bravo Vediamo se sei bravo a fare altro Dai 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 Sbrigati Grazie a tutti. Forse è meglio fare come dicono. 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 Hai organizzato tutto come si deve? Certo, non si preoccupi. Bene, e questa volta non devi sbagliare. I soldi che ti do te li devi guadagnare. State tranquilla, ho organizzato tutto alla perfezione. Grazie per la visione. 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 Carmine! Non ti muovere. Come ti senti? Come ti senti? Abbiamo già capito che a provocare l'incidente col camion si è stato? pensando che nella macchina. non c'è la visione c'ero anche io. E' stato un'ordine. tu dovevi morire per la visione dall'alto. Tu dovevi morire per la visione dall'alto. Tu dovevi morire per evitare vendette. vendette? Ben vedete. 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 Di questa che cosa ne dobbiamo fare? Ammazzatela No, lasciatemi, lasciatemi Bastardi, go! No, lasciatemi 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 Cos'hai? Perché sei triste? Cos'hai? Ma la mamma è in cielo, vero? Certo E adesso E adesso noi cosa facciamo? Viviamo la nostra vita Lei cos'è avrebbe voluto? Si Sì, sì, sì. Buonasera Pogato. Buonasera. Un attimo che sto arrivando. Va bene. Buonasera Sante. Buonasera. Come mai questo incontro improvviso? Volevo prendere un apportamento per una consulenza. Mi vuole accennare qualcosa qui o ci vediamo in studio? No, meglio studio perché è una cosa delicata. Va bene, allora chiami la mia segretaria e le fisserò un appuntamento. Va bene, grazie. Arrivederci Sante. Grazie. Carmini, cosa hai? Ti senti bene? Sì, sì. Sto bene. Sì, è arrivato il momento di fare un po' di pulizia. Sei convinto di quello che vuoi fare? Butteremo tanta paia sul fuoco. Il fuoco che scatenerò io, tutte cose dovrò bruciare. Scateneremo una tempesta. Quello che sta per arrivare non è una tempesta. È un uracano. Scatenerò l'inferno e stavolta non si salverà nessuno. Tu sei con me, vero? Perché se no sei il mio nemico. Come tutti gli altri. Sì, sono avanti. Bene. Sì, sono avanti. Sì, sono avanti. Sì, sono avanti. Carmine, perché mi hai fatto venire qui? Ci sono dei problemi. Le altre famiglie lo sanno. Ehi, a voi gli problemi che ci sono, Don Bernardo Spadaro. Tante cose sto capendo. È incominciato un gioco da Spadaro. E voi mi servite come vetina per le mie mosse. Che è incominciato un gioco da Spadaro? C'è incominciato un gioco da Spadaro. Ci vediamo tra un paio di giorni. Come mai mi hai venuto incontrare a quest'ora? L'appuntamento era alle 8. Amore, io sono preoccupata. Perché? Sono venuta a sapere che hai iniziato a lavorare per Donna Rosalba. Tutti sappiamo in città chi è. Amore, non c'è nessun motivo di essere preoccupata. State tranquilla. Sì, ma tutti sanno che ruolo ha qui in città. Giovanna, state tranquilla. È tutto sotto controllo. Ho già preso degli accordi con degli amici. Speriamo bene, amore. È che ho tanta paura per te. Pronto? Sì, va bene. Ci vediamo lì, al posto stabilito. Va bene. Amore, adesso devo andare. State tranquilla. Va bene. Amore, vai a casa. Ci sentiamo troppo. State tranquilla. Sì, ma con tanti posti che c'erano, giusto? Ne stiamo iniziando a vivere. Sì, stiamo in posto tranquilla. Hai fatto quello che ti abbiamo chiesto. Certamente. Ma Antonio, dimi una cosa. Ma che scusa inventaste a Donna Rosalba per venere a che? Mi sono preso un po' di giorni. Gli ho detto che avevo il Covid. Carmine sarà contento per come ti stai comportando. Che fanno fare i soldi, eh? Questa è la chiave del portone di Donna Rosalba. Grazie Antonio. Stai cominciando a imparare. Ma sei sicuro che vuoi andarci da solo? Vuoi che vengo con te? Io lo devo fare. Lo devo fare per mio padre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, avvocato. Posso? Prego, ragusa, si accomodi. Grazie. Buonasera. Buonasera, avvocato. Come va? Bene, speramente prenderei. Eh, bene, bene. Questi sono le fotocopie contenute in agenda rossa. Roba che scotta. Tutti segreti di cosa nostra da fine anni Ottanta e giorni nostri. Se mi dovesse succedere qualcosa, voglio che questo fascicolo arrivi al più vicino posto di polizia. L'originale dov'è? L'originale dov'è? Adesso è in mano mia. Al sicuro. Più avanti lo farò custodire di una persona fidata. Sì, ma se dovesse succedere qualcosa, io dovrò essere in possesso anche dei documenti originali. Avvocato Calandra, se mi succede qualcosa, la contatterei una persona interessata. Non voglio che succeda niente a mia figlia. Comunque, con questi documenti in mano, lei ragusa in una botte di ferro. Non credo che qualcuno gli possa torcere un capello. Quella non è gente stupida. Io penso solo a mia figlia. Solo lei mi interessa. Certamente. Adesso la saluto, avvocato. Ci sentiamo presto. Mi chiami Anna e mi saluti la piccola Rosi. È così dolce. Certo. Arrivederci. Arrivederci, santa. Arrivederci. 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 Carmela. Quante volte ho sognato questo momento. Trovarmi davanti a chi mi ha distrutto la vita. Essere qui dove sono adesso. Sapevo che da un giorno all'altro anche questo sarebbe successo. Anche se non l'ho dimostrato. Ho avuto tanta paura in tutto questo tempo. Niente che tu non ti sei meritata. Tanta gente è morta per colpa tua. E tu? Anche per colpa tua sono morti. Perché? Non potevamo rischiare che un giorno tu scopisti tutto e ti potessi vendicare. Purtroppo in quella macchina ci trovava tua moglie e tuo figlio. Salvadori aveva fatto uno sgarro. E io non ho avuto scelta. Ho dovuto consentire. E ti hanno lasciato in vita. Un cambio di potere è di essere una delle donne di mafia più ricche della città. E a che cosa è servito tutto questo? Sono una scia di sangue e morte. Stasera ti porterai dietro tanti innocenti. Finalmente riposeranno in pace. Perdonami. QM Marri. Io amavo tua pace. Non ho potuto fare nulla per salvarlo. Hai fatto la tua scelta. Ora sono io che scelgo per tutti. Lo salva minuti. Ha finito di rompere la minchia. Noi siamo in pace. Noi siamo in pace. Noi siamo in pace. E' un pochettino di aria. Ahahah. la fresca, la vada Camina, vada vieni la piccola d'aria fresca sono i grandi traditori Camina, vai vai vai, sali vado a me questo bello panorama che c'è Tori, questa bella compagnia Tori offricci una sigaretta può essere pure l'ultima e che problema c'è? Accomodati vieni, vuoi fumare? che fu? va bene Tori, ci manca l'aria ci manca oh wow Carmine Carmine perchè siamo? vedi questo posto per tanto tempo è stato luogo delle mie paure dei miei incubi avevo rimosso tutto però l'altra sera quando hai sparato a Don Luigi mi è tornato tutto in mente che ha fatto questa postola? niente io sono com'è che si dice le Borio? paranoico ora voglio sentirlo dalla tua bocca le Borio tu ti consigliati niente di mi dispiace Don Filippo io sono per i giovani qualunque cosa ti hanno detto io basta basta minchiati va bene sono stato io tu hai ucciso mio padre quello non era tuo padre quello era un infame io ti ho cresciuto come un figlio io sono tuo padre se mi uccide tutte le famiglie ti saranno contro Don Nicola Donna Rosalba e anche Bernardo Spadaro Donna Rosalba presto la raggiungerai io e mia moglie ti abbiamo cresciuto come un figlio ho fatto la cosa giusta non è stata la cosa giusta questa è la cosa giusta la polizia lo deve trovare Carmine adesso che facciamo? la polizia lo deve trovare l'acqua Ciao Carmine Buonasera Donna Cola Senti Carmine Che c'è Carmine? Spero che sia una cosa importante Don Nicola Hanno ucciso Donna Rosalba E Filippo E chi è stato? Bernardo e Spadaro e i suoi uomini sono spariti Non vorrei fare un cattivo pensiero ma Luigi Cimarosa era un uomo solo E credo che Che fosse appoggiato da lui A quest'ora Spadaro non ha capito tutto E sarà pronto a iniziare una guerra Una guerra? Cosa possiamo fare Don Nicola? Tu volevi bene a Filippo vero? E vuoi bene a Dona Concetta Certo Allora Ci facciamo trovare pronti Pronti per cosa? Pronti a tutto Pure la guerra se serve Come lega un uomo Come lega un uomo Si sa chi è stato? No No Dona Concetta Don Nicola vuole che lei parta per un po' di tempo Almeno fino a quando questa faita non sarà finita Penserò a tutto io Ho già avvisato Don Masino Lipari in America Penseremo a farla spatriare anche subito Quando tutta questa storia sarà finita Penseremo a farla tornare Davvero penserai tu a tutto? Posco metterci la testa Dona Concetta Parola di Carmine Fontana Adesso che Luigi è morto La ragazza non ci serve più Dobbiamo sbarazzarcene E con Don Nicola come la mettiamo? Lui è ancora molto potente Non preoccuparti per questo Ho pensato a tutto io Stai tranquillo Cristina Cristina svegliati Che succede? Dobbiamo andare Ti spiego dopo Dai 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 Vieni Vieni Non evo Vieni Sp BY Quel bastardo ci ha fottuto Io giuro che l'annazzo con le mie mani 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 Con questo siamo sicuro Rossi Io giuro che l'annazzo con le mie mani Io giuro che l'annazzo con le mie mani Grazie a tutti. E' bene le altre famiglie sanno quello che state facendo, pescando come i cani. Caro amico, ne possono fare solo i babbi. E aggiungo pure i babbi e i capelli. Calvo, ne sono un bastardo. Adesso il spadano non mi servì più. Carmine, da questo momento in poi tu sei uno dei picciotti miei più fidati. Perché hai avuto cervello. Perché hai capito che il spadano si era messo a fare la guerra a casa nostra. E tu hai tolto di mezzo. Adesso Donna Rosalba e Filippo possono riposare in pace. Mi diceva Filippo, pace all'anima sua, che ti sono un bravo picciotto. E ti rispettavo. Eppure io da questo momento fiducio in te e ti rispetto. Da questo momento in poi tu ti devi considerare cosa nostra. Ora te lo puoi dire. Pagandona o Albozzo. Èplesi anche più gran cheering. Una volta che Understanding kunva dire la palla Filippo è un reglione d'ar화. Capito meni! All'imp Türk Th Faiz! Giarsi è che lleva solo un binocchio. A presto A presto E' solo un inferno di verità Forse hai ragione Forse ho capito dove sono andati Dove? Mio zio Aveva un modello fuori mano Non molto istante da qui Poi è andato in fallimento E dopo 4 giorni ha chiuso Dammi l'indirizzo Ci vado io Tu resta qui In caso Don Nicola bisogna Come ti vanno questi vestiti? Bene Purtroppo quella boutique aveva solo questi Adesso cosa facciamo? Quello è un motel E' chiuso da 4 giorni Potremmo passare la notte lì Non è un posto sicuro? Certo Assolutamente Era di mio zio Va bene Allora 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 Ho bisogno di una doccia Ho bisogno di una doccia Thank you Allora 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 Grazie a tutti. Mi dispiace per tuo padre. Grazie. Andiamo via, insieme. Vieni via con me. Sì. Sì, imparati. Ma che bravi che sei. Allora, chi ha ammazzato i due per fila? A lei lasciala stare. Prenditela con me. Come vuoi. L'hai visto, bravo, si ha imparato. Addio, l'ho ammazzato. È quello che si merita. Andiamo via. Allora, what? Ciao. E' particolare. Don Peppino Camastra, Donna Olga, i miei rispetti. Ciao Carmina. Come mai un capofamiglia del suo calibro si è spostato da Palermo fino a qui per venirmi a trovare? Don Nicola mi ha parlato così bene di te che io ho deciso di conoscerti di persona. E visto che le famiglie di qui devono mettersi con noi d'accordo, ho ritenuto opportuno che questa era una cosa da attuare. E visto quello che hai fatto tu per le famiglie, era il minimo che potevamo fare per farti uscire da quell'inferno. Grazie. Vedi, anche a me non piacciono i traditori. E tra di voi c'è un traditore. Quel porco tagliava la roba con la spazzatura e se la vendeva per conto suo. Uomo di Donna Rosalba era, non voleva un cazzo. Con l'agenda rossa nelle tue mani sei intoccabile. Adesso tutta cosa nostra è ai tuoi piedi. Agenda rossa? Sì, Don Filippo non avrebbe scelto custode migliore per il suo tesoro. Adesso io e mia moglie dobbiamo andare. Tra un paio d'ore abbiamo l'aereo per l'America. Vado a trovare gli amici di New York. Gli parleremo anche di te. E che cosa gli direi? Che qui a Messina ci sarà un futuro capo. Gli parleremo anche di te. Gli parleremo anche di te. Bravo! Ok, va bene. Tutto a posto. E come è stabilito questo mese hanno pagato tutti? Bene. Andate da Don Nicola adesso. Io vi raggiungo dopo. Tutto questo sarà mio. La vendetta è come un veleno che ti infade piano piano. Senza che tu te ne accorga. Ti trasforma in un essere spreggevole. Di me? No. 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 No papà perché siamo qui? per la tua sicurezza prendi bene la mira vai io ho assicurazione all'aria a te la cattavaro come non ho mangiuto pozzo io allora la prossima volta dovrò tu vai così mi fai a vedere come lo faccio a te la cattavaro come lo faccio quello che sta per arrivare non è una tempesta è un uraga scatenerò l'inferno e stavolta non si salverà nessuno ho detto tutto e tutti devono essere e poi se ne va a Kugawa ha finito in un paramicchio